Due studi particolarmente importanti sono stati presentati a questo congresso di San Antonio. Uno è lo studio con il farmaco Tucatinib, uno studio randomizzato che ha reclutato oltre 600 pazienti già pretrattate con Pertuzuma e Trastuzuma e Tdm1 che sono state randomizzate a ricevere Trastuzuma più Capecitabina più Tucatinib oppure Trastuzuma più Capecitabina più Placebo. Lo studio ha dimostrato una superiorità in termini di progression free survival a favore del Tucatinib. L'aspetto particolarmente importante di questo studio che per la sua rilevanza è già stato pubblicato su New England Journal of Medicine è il fatto che reclutava pazienti con metastasi cerebrali, circa il 50% delle pazienti reclutate nello studio presentava metastasi cerebrali e il farmaco ha dimostrato un'importante attività in questo sottogruppo di pazienti per cui il Tucatinib verosimilmente sarà una nuova opzione terapeutica importante per le pazienti R2 positive e speriamo che possa avere uno sviluppo dal punto di vista dei trial clinici anche per quanto riguarda il suo utilizzo nella prevenzione delle metastasi cerebrali che purtroppo costituiscono il 50% di tutte le metastasi in questo sottogruppo di pazienti. L'altra novità invece riguarda il farmaco Trastuzumab Deroxtecan, un anticorpo anti-R2 coniugato con un inibitore delle topoisomerasi. È uno studio di fase 2, anch'esso per i suoi risultati è stato pubblicato online contemporaneamente sul New England Journal of Medicine, uno studio di fase 2, anche questo diciamo includeva pazienti pesantemente pretrattate. Il 50% delle pazienti aveva ricevuto più di sei linee di trattamento per la malattia metastatica e questo studio ha dimostrato un'attività particolarmente importante di questo farmaco con un 60% di risposte obiettive registrate nelle pazienti trattate con questo farmaco. Per cui diciamo anche per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia, si è registrata un valore di circa 16 mesi che in questo setting di pazienti è clinicamente molto rilevante. Il farmaco è in sperimentazione anche in confronto col TDM1 o dopo TDM1 e un altro aspetto importante di questo farmaco è che gli studi preclinici, lo studio di fase 1, ha dimostrato una potenziale attività anche nel sottogruppo di pazienti, i cosiddetti ER2-Law, che sono pazienti per le quali attualmente non viene effettuato un trattamento anti-ER2. Lo studio che è in corso sta valutando la possibilità di applicare questo farmaco anche in questo sottogruppo di pazienti e quindi è un farmaco che potrebbe avere applicazione non solo nel sottogruppo ER2 positivo classico ma anche nelle pazienti con una bassa espressione di ER2 per le quali attualmente non è indicato un trattamento anti-ER2. Ovviamente questo farmaco potrebbe poi essere impiegato anche negli altri tumori che esprimono l'ER2 come ad esempio il tumore gastrico. I farmaci sono ancora non registrati, quindi non sono disponibili per la pratica clinica, sono in sperimentazione in alcuni centri. Questi farmaci, in particolare il Trastuzio di Ruxtecan, è in sperimentazione in alcuni centri italiani e quindi dobbiamo ancora aspettare l'iter autorizzativo prima di poterlo impiegare in una pratica clinica e speriamo, visto i risultati particolarmente promettenti, che questo iter sia il più veloce possibile.